Della prestazione della squadra diciamo che dopo un derby non è mai facile giocare perché hai tutta ancora l'adrenalina di quella partita lì, è una partita importantissima. Quanto era quella di oggi perché il Foralberg è una squadra determinata, fisica, veloce e che anche negli ultimi anni ha sempre dato fastidio a Bolzano. L'importante oggi erano i tre punti e secondo me la cosa importante era la reazione nel terzo tempo, nessuno si è impanicato e è andata bene alla fine. Come vuole il Bolzano reagire quando fa difficoltà per due tempi a giocare una partita, comunque che vuole giocare una partita dominante, si deve tornare un po' alla base e fare bene la base e costruire da lì? Sì, bisogna non cercare di moralizzarsi, sappiamo che abbiamo giocatori che nei momenti importanti riescono a tirare fuori il meglio di sé e così è stato oggi, siamo detti nel terzo che dovevamo giocare meglio, è andata così, abbiamo portato il risultato a casa e come ripeto nessuno ha avuto segni di panico o di altro e è andata bene. Sì, abbiamo conosciuto in questo gioco che è stato un fissile, fissile gioco, e abbiamo conosciuto la forma di giocare, e abbiamo conosciuto che è stato difficile per noi, ma la messa è stata la stessa cosa durante tutto il gioco, quando siamo arrivati in between periodi, siamo stati pronti per una partita, e ho pensato che abbiamo fatto un buon lavoro davvero di essere fissile, e quando è importato, abbiamo avuto i giochi che abbiamo bisogno. Probabilmente i primi due giochi erbbero un po' più semplice, come si erbbero, quindi dopo il gioco il gioco, quali aspetti del gioco del gioco del gioco, del gioco del gioco, sono le maggiori cose che dovrai lavorare nei prossimi giorni? Sì, non ogni gioco è un gioco 5-0 o un 5-2 gioco, quindi abbiamo aspettato, come ho detto, un gioco di gioco, è un gioco di gioco, ma penso che la maggiorna cosa che abbiamo avuto da questo, è che non ci sono mai scoperto, anche quando ci sono scoperto per il terzo periodo, credo che come team sappiamo che abbiamo abbastanza talento, abbastanza skillo e abbastanza ragazzi, che ci saranno capire il gioco al fine del gioco. Il gioco di gioco è stato un gioco gioco in Vienna, cosa aspettate da questo gioco e come vi facciate? È il nostro primo gioco di gioco, quindi credo che siamo pronti per giocare, è un gioco semplice, sono un gioco gioco, quindi credo che siamo pronti per giocare il gioco e preoccupare il gioco.